Ed ecco l'Haddle che precede la Haka, sicuramente avrà un nome molto più importante e molto più intelligente ma non lo conosco Adesso vediamo qui, questa è la mitica, leggendaria Haka, ecco qua L'applauso di Coach Peterson è il mio, si unisce a quello dell'intero padiglione C della Fiera di Rimini Tutti sorridono di felicità per quello che ne vede e molti che non avevano visto mai, tutti qui applaudono ancora, ragazze e ragazze della Russia applaudono tutto questo qui a nostro fianco qui, quindi sarà una bella partita